Salve a tutti, Domenico Giordano della Giordano Broket Est. Il lavoro cresce insieme alle possibilità ed essendo fermamente convinto che più dai e più ricevi e che un leader sia colui il quale fa crescere altri leader e io lo voglio diventare nel mio settore, sono qui ad invitare due giovani volenterosi, che magari parlano già russo, a collaborare con me per sei mesi. La collaborazione consisterà in un'attività di ricerca e sviluppo e lo scopo sarà quello di aumentare il numero delle aziende italiane presenti sul mercato russo, dare più possibilità alle aziende italiane di conoscere i vari importatori e le varie opportunità del mercato russo e di fare pratica nel settore dell'intermediazione, che sarà questo uno dei vostri obiettivi. Dettagli sulla struttura del lavoro, sulle modalità, sulle retribuzioni, vi saranno comunicati in privato a coloro i quali lasceranno un messaggio sotto questo video. Quindi se vi è piaciuto o se ritenete che questo video sia stato utile, condividetelo, segnalatelo a persone che potrebbero essere interessate e iscrivetevi al canale per essere aggiornati. Arrivederci!